ciao e benvenuti sul canale youtube di giochi sul nostro tavolo oggi procederò con il disinscattolamento di ride the future un gioco da tavolo di tobia soul illustrato da anthony courneuer a dystopic royal ride game in pratica c'è un gioco di parole tra dystopico e dice che sono i dati queste sono le icone delle risorse che troveremo nel gioco andiamo a caccia dell'editore che è all or none games e delle classiche icone dei giochi da tavolo 10 più l'età indicata 30 45 minuti la durata attesa da 1 a 100 i giocatori quindi insomma un po si gioca in quanti si vuole al classico roll and write in cui c'è un pool di dadi comune poi ognuno lo usa come meglio crede c'è anche una versione in realtà a draft che arriva fino a 4 giocatori ma poi in caso mai la vediamo con i materiali cosa troveremo dentro allora c'è un blocchetto di fogli giocatore doveva essere un centinaio libretto delle regole 4 matitine 18 dadi 42 carte missione e 5 carte quartiere questi sono i fogli giocatore c'è i distretti lì che è quella grande area quadrettata il mercato nero a destra sopra ci sono le abilità di quartiere lo spazio per il nome così via queste sono le carte missioni le carte quartiere con i dadi sopra mazzetti di carte dadi è in tre lingue inglese tedesco e francese ma c'è anche una versione ufficiale italiana scaricabile in pdf andiamo a misurare la scatola siamo a 21 centimetri e 3 per altrettanti e una profondità di 3 centimetri togliamo il cellophane e andiamo a vedere l'interno eccoci qua c'è qualche segnaccio intanto che però da di qua non traspariva i dadi sono di quattro colori come quattro sono le risorse del gioco dadi canonici a 6 facce con i valori dall'1 al 6 poi abbiamo le matitine in realtà sono matitone con tanto di gommina in fondo questo è un foglietto dessiccante qui ci sono le carte le vediamo per ultime qui abbiamo il regolamento ecco qui le risorse che vedevamo anche dietro armi soldi informazioni e agenti nei colori dei quattro dadi qui abbiamo le informazioni i soldi le armi e gli agenti qui come accennavo c'è la versione a draft 2-4 giocatori e la versione invece tradizionale quindi 1-100 una paginetta di regole poi di fatto c'è la spiegazione di tutte le carte missione sono di vari tipi qui c'è la mini espansione future proof le altre due lingue questo è il blocco di foglio giocatore questo è la vostra città con la periferia e la landa desolata in queste tre aree qui abbiamo i bonus di riga quando riempite completamente una riga di risorse il dado serve il numero per la coordinata e potete scegliere la riga o la colonna mentre il colore vi dice quale risorsa potete disegnare queste sono le abilità di quartiere questa vi permette di spostare risorse questa di impostare il valore di un dado questa invece di cambiarne il colore qui ci potete scrivere il nome questo è il mercato nero dove i dadi non utilizzati nei vostri distretti li potete impiegare per modificare i valori delle risorse qui un dado qualsiasi si va a riempimento qua solo dadi dispari qui solo dadi pari e qui il dado specifico che è segnato quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 questi vi daranno i punti a fine partita di queste risorse e qua c'è un tracciato per altri punti da raccogliere questa è la somma per il vostro totale qua vi dicono i punti raccolti i punti delle varie risorse e in più i punti per le emissioni 1, 2, 3, 4 sono 4 carte emissioni disponibili durante la partita abbiamo parlato di carte vediamo le carte sono piccoline allora misurano 44 x 67 mm e le andiamo ad aprire dunque abbiamo queste sono carte quartiere dovrebbero essere 5 e poi ci sono tutte le carte missione le emissioni possono essere di questo tipo quindi voglio questa risorsa con niente intorno anzi questa è voglio questa risorsa contornata di altre risorse qualsiasi questa è voglio la risorsa senza nessuna risorsa intorno qui è l'area più grande di questa risorsa fatto 8 punti qui abbiamo dei set qui abbiamo delle coppie qui si va per aree quindi l'anello esterno l'anello intermedio e poi il blocco centrale qui abbiamo delle forme specifiche di risorse nel vostro distretto qui lo stesso deve esserci mancanza di risorse ma risorse intorno schemi vari queste sono le carte quartiere qui si mettono due dadi due dadi qui due dadi qui a seconda di quelle che vengono utilizzate questo ad esempio fa spostare risorse da una parte a un'altra questo fa impostare il dado questo fa impostare il valore questo fa impostare il colore questa è una scelta e questo è un fontuvo bene questo è tutto se non che all'esterno della scatola erano anche compresi dei timbrini per non andare a disegnare a mano ma volendo si può stampigliare sulla scheda l'icona corrispondente sono due per colore e poi c'erano un biglietto da visita un sacchettino per mettere i dadi e la mini espansione future proof di cui avevamo già avuto sentore nel regolamento apriamo anche questa e così l'unboxing è completo le carte ovviamente sono della stessa dimensione anche perché sono carte di fazione poche e nuove carte missione la maggior parte che quindi devono essere indistinguibili dalle precedenti e queste sono le fazioni immagino siano nelle tre lingue questa è tedesco poi immagino parte il francese e poi l'inglese eccole qua in inglese comunque si trovano tutte nel regolamento nel pdf che potete scaricare in italiano da bgg le carte missione sono simili però hanno distribuzioni diverse insomma delle forme set diversi set da tre che non c'erano nel gioco base e queste sono bonus di riga e colonna per ognuna che non presenta la risorsa crocettata bene ora è veramente tutto non mi resta che salutarvi ringraziarvi per la visione e darvi appuntamento al nostro prossimo video ricordando che da questa parte potete esprimere apprezzamento da quest'altra potete accendere la campanellina e rimanere sempre informati sulle nostre prossime uscite grazie ancora per la visione grazie a tutti grazie a tutti